22 settembre 2023, Tommaso Pena invece da Luca De Marzi sul piacevole percorso della salita di Monte Salviano, ecco qui, si, a nulla, un po' di vento, c'è una serie di piacevoli tornanti, la salita dovrebbe essere sul 5%, credo, comunque è stato rifatto il mando stradale, l'ultimo altro che ho transitato qui non c'era il mando stradale nuovo, la domenica il traffico, se non erro, è riservato esclusivamente ai pedoni e quindi c'è, ecco qua il tratto riservato ai pedoni, là con la palizzata e qui abbiamo già il panorama, il Belvedere da Monte Salviano, man mano che si sale, il panorama è più vasto, più bello.